Esperimento riuscito, aggregazione e scambio di esperienze, giovani e anziani insieme. A Molfetta, l'area verde degli uffici comunali di La Mascotella, trasformata in orto urbano. Colto e mangiato il titolo del progetto, i prodotti della terra, rigorosamente a chilometro zero. Le esperienze fatte e le esperienze da fare, nel senso di disponibilità a dare e disponibilità a ricevere. I risultati sono stati assolutamente in linea con le nostre aspettative, anzi anche al di là perché abbiamo appreso e coinvolto con grande piacere quattro associazioni in questo nostro progetto, due delle quali gestiscono dei bambini con degli handicap e il rapporto con la terra è notorio, aiuta i bambini con handicap a superare l'handicap stesso. Iniziativa dall'alto valore sociale, dicono dall'amministrazione comunale, il progetto ha visto il coinvolgimento degli studenti del territorio, volontari del Corpo Europeo di Solidarietà. L'apporto qualitativo di questo progetto è stato quello di coinvolgere notevolmente moltissime persone, ma soprattutto diverse associazioni, principalmente associazioni che si occupano di bambini autistici, ma anche di stranieri. e diciamo che soprattutto in questo determinato periodo storico l'obiettivo era anche quello di far uscire un po' la gente per avere un po' di vita sociale, perché in questo periodo devo dire che è mancata.